Prende il via domani il piano di vaccinazione per gli ultraottantenni anche in provincia di Salerno, ma secondo le critiche che arrivano oggi dal consigliere comunale di Salerno di Tutti, Gianpaolo Lambiase, non ci sarebbe un idoneo piano supportato da centri, strutture e personale atto ad accompagnare la campagna di vaccinazione. Lambiase riferisce di sapere che nel distretto 166, quello che include Salerno e Pellezzano, ancora non sono stati individuati i centri di vaccinazione e quindi l'inizio del piano vaccini anticovid rivolto a tutti i cittadini potrebbe slittare. Attrezzare ed organizzare i centri di vaccinazione, dice Lambiase, è un'operazione che richiede tempi non brevi ma che deve essere rapidamente programmata ed attuata perché riguarda la salute e la sicurezza di migliaia di cittadini. L'agenzia che ha vagliato domande di medici e infermieri che si sono proposti per le attività di somministrazione del vaccino ha già iniziato a selezionare il personale. Alcuni medici ed infermieri sono stati assunti dal primo febbraio e sono stati allocati al centro vaccinazioni presso l'ospedale Ruggi d'Aragona. Il centro vaccinale funziona bene a buon ritmo ma non si può pretendere che a partire dagli ultraottantenni si vada tutti a Ruggi. C'è urgente necessità, conclude dunque Lambiase che l'ASL di concerto con il sindaco attivi ed attrezzi immediatamente altre strutture per la somministrazione del vaccino che possano servire l'intero territorio e garantire l'assistenza necessaria ai salernitani.